Per Rete Zero siamo venuti a Sant'Alessio Siculo per intervistare la professoressa Giuseppina Cassaniti, presidente nazionale dell'Associazione Familiari Vittime della Strada. Un'associazione di grande rilievo, un'associazione che porta con determinazione avanti quello che è il suo progetto, un progetto che è fatto di anima, che è fatto di giustizia. Progetto che è portato da chi sulla propria pelle ha sperimentato il dramma e vuole trasformarlo in risorsa per evitare che altre tragedie si compiano nel tempo a venire. Professoressa Cassaniti, da quando lei è coinvolta in questo virtuoso progetto? Da quando, come ha detto lei, ho sperimentato sulla mia vita stessa la privazione di una vita essenziale alla nostra famiglia, l'uccisione di mia figlia Valeria. Valeria è stata uccisa nel 1997, successivamente sono stata impegnata per trasformare, come ha detto lei, questo sacrificio in un'istanza di cambiamento, in una possibilità perché la società sia più civile e più giusta, cioè in un impegno perché la società sia più civile e più giusta. Perché uccidere in una società che si chiama civile non è segno di civiltà, è segno di barbarie. Se poi aggiungiamo a questi comportamenti depravati che avvengono sulla strada, li chiamo depravati perché sono comportamenti di trasgressione delle norme, la cui osservanza dovrebbe garantire la civile confivenza. Se a questi comportamenti depravati si aggiungono poi comportamenti inaccettabili e distorti da parte delle istituzioni, la complessità della strage diventa un fatto veramente insopportabile perché al fatto che si perde una vita si debbono anche sopportare le staffilate che dà la giustizia, le istituzioni, cioè gli imbrogli delle istituzioni, la sottovalutazione del reato e del danno da parte delle istituzioni. Lei sta dicendo, professoressa Castaniti, che probabilmente la legislazione ad oggi è ancora inadeguata. La strada in molti casi soffre di leggi che rischiano di diventare quelle della giungla. Le leggi ci sono, ma chi le rispetta? E peraltro in un clima, quello all'italiana, in cui non si cerca di cambiare in meglio le leggi, ma si dice, va bene, le leggi sono quelle, ma poi in fondo... Possiamo non rispettarle. Ecco, il dramma dell'Italia è proprio questo. E la nostra determinazione è che anche questo problema, questo reato dell'incidente stradale, deve essere affrontato in modo corretto. Cioè non si deve cercare nella testa dell'imputato se voleva correre o se voleva uccidere. Questa è un'idea che ha il giudice, che un giudice può rilevare che voleva correre o non voleva uccidere, un altro giudice può rilevare che voleva uccidere. Cioè viene trasformato il reato stesso nell'ambito di un primo livello di giustizia e poi nell'ambito dell'appello, per esempio. Noi non vogliamo che ci sia questa ricerca nella testa dell'imputato per stabilire la gravità del reato. Bisogna puntare sulla gravità dei comportamenti. Allora, quando i comportamenti sono comportamenti di grave trasgressione delle norme, con assunzione irresponsabile e non controllabile del rischio alla guida, la persona può uccidere, chiunque capita sulla strada può anche uccidere se stesso. E quindi è inutile che i giudici utilizzino la loro discrezionalità per stabilire cosa voleva fare l'imputato. Basta la valutazione del comportamento oggettivamente rilevabile. Altrimenti io vorrei dire, vorrei capire e vorrei chiedere ai magistrati perché ci sono le norme. Se poi, allora, quando si gestisce la giustizia, le norme stesse non hanno rilevanza. Velocità, velocità sconsiderate sulla strada. C'è un limite che ad oggi parla di 130 all'ora. Ma sulla strada ogni tanto vediamo sfricciare dei jet. La superficialità, la distrazione, l'uso indiscriminato e irresponsabile di alcol e stupefacenti alla guida. Probabilmente qualcosa di più si può fare. Anche perché, ed è questo un po' lo slogan che viene fuori dal nostro film On The Road prodotto su questo focus, su questa stradale, dalla nostra rete zero. Tornare indietro non è possibile. Sì, esatto. Tornare indietro non è possibile. Noi dobbiamo comunque focalizzare l'attenzione proprio sui comportamenti di grave trasgressione delle norme. e non possiamo settorializzare questi comportamenti. Perché, come ha detto lei, c'è la distrazione, c'è l'eccesso di velocità, c'è lo stato psicofisico alterato e così via. Non possiamo puntare solo sullo stato psicofisico alterato. Noi dobbiamo, come si dice, affrontare il problema in maniera complessiva. Ecco, per cui dobbiamo parlare di comportamenti responsabili alla guida. Perché se uno è ubriaco, drogato, allora è un comportamento grave. E se uno è sobrio e va sulla strada come un pazzo e non rispetta le norme, secondo lei è una responsabilità minore. Quando noi diciamo che uno ha la colpa di una cosa, noi diciamo che quella persona è irresponsabile di quella cosa. Quindi è quella responsabilità personale che la persona si è assunta, ledendo i diritti degli altri, che va colpita e va penalizzata. Il nostro punto di vista è che qualunque comportamento irresponsabile alla guida, con questo comportamento irresponsabile, si trasforma il mezzo di trasporto in un'arma per uccidere. Quindi questi comportamenti irresponsabili devono sopportare delle pene. E non vogliamo che si passi, noi non siamo interessati a caratterizzare il reato come doloso. A noi basta anche che venga considerato come colposo, con la condizione che alla colpa si dia il vero significato. Che se io sono colpevole di una cosa vuol dire che sono responsabile. E per quella responsabilità che mi sono presa, ledendo irreversibilmente i diritti degli altri, io debbo espiare una pena. Cioè uno Stato di diritto che è fondato sull'osservanza delle norme, una società civile che deve garantire il rispetto dei valori umani, dei diritti umani. Allora quando questi diritti, questi valori vengono calpestati, la società può chiamarsi civile se coloro che li calpestano vengono penalizzati. Altrimenti vuol dire che calpestare i valori, calpestare i diritti è una cosa che tranquillamente si può fare. Allora io mi vorrei chiedere, ma che società civile siamo? Siamo una società barbara, una società che non sa distinguere tra il bene e il male, tra il diritto, il dovere, il valore e i comportamenti di prepotenza, eccetera. Uno Stato di diritto deve salvaguardare il debole nei confronti del prepotente. Invece ancora abbiamo un'impostazione che il prepotente viene aiutato nell'ambito della giustizia e il debole viene calpestato. Noi siamo impegnati perché si dia giustizia alle vittime e dando giustizia alle vittime si dà alla società un segnale che non si può più continuare a uccidere. Perché solo la persona che deve spiare una pena può veramente modificare se stessa, può riflettere su ciò che ha fatto. Mentre se viene sostenuto dalla giustizia e dice, ah sì, poveraccio, ma questo voleva correre, non voleva uccidere. Allora viene confermato nella possibilità che sulla strada può fare quello che vuole. Quindi noi siamo civili se contrastiamo i cattivi comportamenti che distruggono i diritti umani. E ci sembra di aver capito che fra le richieste che vengono quindi portate alle istituzioni, alle massime istituzioni, ci sia la certezza della pena e la individuazione nei casi più drammatici di un reato chiamato omicidio stradale. Le voglio dire, ecco, su questo fatto, su questa dicitura omicidio stradale si è fatta molta confusione. Attualmente nel codice penale noi abbiamo l'articolo 589 del codice penale che parla dell'omicidio colposo e parla anche dell'omicidio colposo stradale. Attualmente le pene di questo articolo sono da 2 a 7 anni. Chi uccide sulla strada, insomma, deve espiare una pena da 2 a 7 anni. Quindi viene indicato un minimo e un massimo di pena. Se l'omicidio viene compiuto in stato di abbrezza o sotto l'effetto di sostanze, le pene sono da 3 a 10 anni. Questo fatto che la legge stabilisce un minimo e un massimo è stato utilizzato dai giudici per applicare la pena minima, al fine di applicare la pena minima. Nonostante la legge non dica che si deve applicare la pena minima, la legge dice che si deve applicare la pena concrua. E il legislatore ha dato l'indicazione di un minimo e di un massimo di pena in maniera che il giudice con la sua valutazione discrezionale possa applicare la pena concrua. Invece cosa fanno i giudici? Partono dal minimo nell'applicazione della pena, applicano i diminuenti di rito, che sono la riduzione di un terzo per il patteggiamento, per il processo per rito abbreviato. Poi riconoscono anche le attenuanti generiche, che non si capisce che cosa siano se non ci sono attenuanti specifiche. Cosa sono queste attenuanti generiche di fronte ad una vita che viene distrutta? Applicano ancora la riduzione di un terzo e quindi le pene diventano 8 mesi, 12 mesi, si applica 6 mesi. Si applica la sospensione condizionale della pena, pertanto la persona che è stata uccisa, una vittima innocente, viene mandata sottoterra, gli viene tolta la libertà di vivere e la persona che ha compiuto questo reato può continuare tranquillamente a vivere. E ha la percezione che ha una giustificazione sociale, perché la giustizia stessa gli permette di non espiare alcuna pena. Quindi non c'è nessuna sollecitazione a un cambiamento sul piano dei comportamenti. Non so se mi spiego, questa cosa deve essere abbastanza chiara. E la persona però, da parte di questo fatto, lascia nei familiari delle vittime una grande rabbia, perché si vede che debbono sperimentare, nei familiari delle vittime, che quella vita che era essenziale alla loro famiglia, non solo è stata distrutta, ma colui che l'ha distrutta viene anche premiato dalla giustizia, perché viene salvaguardato in ogni suo diritto, anche nel diritto alla libertà. Dopo che lui ha tolto la libertà di vivere definitivamente a una persona, o la libertà della salute a una persona, lui continua tranquillamente ad avere la libertà. Questa, ripeto, non è società civile. E per redimersi questa persona, per riabilitarsi un pochino, perché altrimenti nell'ambiente sociale continua ad avere la figura del delinquente, vive come un delinquente, perché tutte le persone dicono questo, ha ammazzato e non ha espiato neanche una pena. Per poter recuperare un pochino se stesso, un po' di dignità, deve espiare una pena, perché la riduzione della libertà personale lo porta un pochino a riflettere e quindi anche a cambiare. E nello stesso tempo dà giustizia alla vittima e permette una certa riappacificazione sociale tra la persona che ha compiuto il reato e la società che deve difendere i valori o i diritti che vengono distrutti, insomma. Per un fenomeno che ha numeri davvero terribili in Italia, sia per numero di vittime, sia per numero di feriti, coloro che poi rimangono, ahimè, in stato di disabilità a livello esistenziale, e con numeri nel mondo pazzeschi. Più di un milione di persone nel mondo perde ogni anno la vita sulle strade. In tre anni una città come Roma, cancellata dalla faccia da terra. Un fenomeno che impone risposte e l'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada è in prima linea, peraltro, consociata in una federazione europea che chiede e afferma un diritto a sempre maggiore autorità negli intervenire su questo tema di grande rilevanza sociale. Infatti la finalità dell'Associazione, la mission dell'Associazione, è di impegnarsi per la prevenzione e la giustizia, perché prima ancora della giustizia ci dovrebbe essere la prevenzione, perché queste cose non dovrebbero avvenire sulla strada. Ci sono anche le normative e le indicazioni europee, per esempio c'è il Piano Europeo della Sicurezza Stradale 2011-2020, che parla della necessità di garantire la sicurezza a tutti. È veramente un'indicazione rivoluzionaria, che mi sembra in Italia non sia stata ancora metabolizzata. In questo tutti, è chiaro che viene compreso, in questo tutti vengono compresi i pedoni e quindi le indicazioni o gli interventi per la prevenzione debbono partire proprio da salvaguardare la vita dell'utente debole. Abbiamo molta strada da fare. Nello stesso tempo l'indicazione che dà, certo, a lunga scadenza anche il Piano Europeo è la visione zero, perché bisogna partire dall'idea che la vita va veramente salvaguardata. Altrimenti noi non possiamo accettare, se pensiamo che con la mobilità per forza ci devono essere gli incidenti, allora mettiamolo da parte questo progresso. Noi dobbiamo avere una mobilità che non produca vittime. Allora vi vorrei dire una cosa, che per esempio Giovanni Paolo II, un grande oggi santo, un grande Papa, una grande persona, alla quale persona avevamo chiesto un indirizzo di salute in un convegno che abbiamo fatto tempo fa, lui ci ha mandato il suo saluto e ci ha mandato a dire non rassegnatevi mai a considerare le vittime della strada come un fatale ed inevitabile pedaggio da pagare al progresso. Incrementate le iniziative per affermare il valore della vita. Mi pare che siano parole grandiose, un'indicazione forte che è coerente con la nostra finalità, che è quella di fermare la strage stradale, oltre che dare giustizia ai superstiti. Fermare la strage stradale, tante volte dicono ma non si può fermare. Ebbene, l'indicazione del Papa, di allora Papa, oggi santo, Giovanni Paolo II era quella di non rassegnarsi mai a considerare le vittime della strada come un fatale ed inevitabile pedaggio da pagare al progresso. L'indicazione è incrementate le iniziative per affermare il valore della vita. Sono parole di grande valore. La strada da compiere e da percorrere è molta, ma il percorso deve essere fatto e deve essere un percorso etico, culturale ed organizzativo. E per chiudere proprio in questa direzione non possiamo non fare un riferimento alla scuola che può e deve diventare per l'associazione un campo dove esperire ciò che il Papa in qualche modo ha intuito come sostanziale di un percorso di rinnovamento della società. E questo chiama in campo la responsabilità degli adulti, degli insegnanti. Ecco, io vengo fuori dal mondo della scuola, anche io, e dicevo sempre agli insegnanti che loro avevano un grande dovere di testimonianza, cioè nel senso che ciò che loro volevano che avvenisse nei ragazzi dovevano dimostrarlo con la loro vita, perché non passa tanto la parola, passa la testimonianza, cioè un impegno di fede a determinati valori che ciascuno di noi ritiene importanti per orientare l'esistenza, per orientare la vita. E il valore, la cosa più importante, è rendersi conto del significato della vita. Veramente noi abbiamo tutta questa libertà di fare tutto quello che vogliamo. La libertà senza avere dentro l'idea del limite non ha senso, è il libertinaggio. Quindi la prima cosa che deve fare la scuola è un significato metabolizzato fortemente dal punto di vista etico e culturale da parte degli insegnanti. Cioè debbono essere una guida per la vita, per i giovani. Insomma, così scapestrati, così sbandati. Ecco, non penso neanche che sia solo la scuola a non aver dato il massimo perché la scuola deve essere quel di più che salvaguarda l'umanità nella società. Non è soltanto la scuola, è che purtroppo ci sono tante cattive scuole diffuse nel mondo. Anche la televisione può essere una, come diceva Popper, una cattiva maestra. Popper parlava della cattiva maestra a TV. E quindi ciascuno si passa un pochino la mano sulla coscienza e pensi che è un centro propulsore di miglioramento o anche un centro di negazione della civiltà. Ecco, è un grande lavoro da fare. Testimonianza efficace ed intensa quella della professoressa Giuseppina Cassaniti Presidente nazionale dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Basta vittime della strada. Questo è il concetto forte, il tema sul quale si sta battendo l'associazione e il tema che ci piace rilanciare e ci piace vedere in questa intervista non un punto d'arrivo ma un punto di partenza per una sensibilizzazione nuova nella società e nella scuola. Grazie professoressa. Grazie a lei dell'opportunità che mi ha dato per comunicare quello che noi pensiamo come Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Certo, la strada, abbiamo detto, è lunga ma dobbiamo capire che cosa è la civiltà. Per esempio, la velocità non è segno di civiltà. Non è detto che sia segno di civiltà. A volte è la lentezza che permette la riflessione, la riconsiderazione dei problemi, storicizzare le cose, insomma, riportare, ricordare, eccetera. Questo è segno di civiltà anche perché salvaguarda la storia umana.